Ancora da quantificare gli ettri di bosco del parco incoronata di Foggia andati distrutti da un incendio scoppiato all'alba di oggi. Sul posto hanno operato per diverse ore uomini e mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale, volontari della protezione civile. Un intervento reso difficile anche per il vento che a tratti spirava con particolare intensità rendendo arduo il lavoro dei soccorritori nell'arginare le fiamme impedendo che potessero propagarsi ad altre zone del bosco. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta per cercare di capire se si sia trattato di un incendio doloso o colposo. Anche se quest'ultima ipotesi è poco credibile vista la giornata non caldissima. Non si esclude infatti che le fiamme possano essersi propagate magari per la negligenza di qualcuno. Anche solo un mozzicone di sigarette ancora acceso può incendiare a volte un bosco, soprattutto in una zona come quella del parco incoronata di Foggia dove il sottobosco spesso è poco curato con erba secca molto alta e dunque di facile propagazione per gli incendi.